con un'atmosfera romantica in questo brano vi chiedo di immaginare una scena, un paesaggio come in un quadro quello di un quadro, un bel paesaggio immaginate il dono di Napoli il mare il lungo mare questo lungo mare il mare di cui giovanotto sta camminando sul lungo mare ad un certo punto vede arrivare da lontano la ragazza di cui è innamorato ormai da tempo ma non ha il coraggio neanche di far farle e allora proprio in quel momento magico forse lui dentro di se gente quell'energia, deve dirglielo diventa più romantico la guarda negli occhi, la vede arrivare a sé come un bravo gentiluomo di una volta la saluta dicendo buonasera signorina buonasera signorina buonasera 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.